È stato un autunno molto frenetico per quanto riguarda l'Unione Maestranse e che subito a settembre si è messa in moto la macchina per consentire di avere un itinerario prima delle festività natalizie e diciamo che questo è stato portato a termine. Lo scorso 21 ottobre infatti è stata l'Assemblea dei Socii ha abolito la regola dell'alternanza che era entrata in vigore nel 2011 che prevedeva quindi un anno fare solo il centro storico e un anno percorrere centro storico più via Fardella. Abbolendo la regola dell'alternanza la processione dal 2019 in poi sarà annualmente, vedrà coinvolta sia il centro storico che la via Fardella. Quindi questo è già un punto fermo sulla quale l'Unione Maestranse ha lavorato. L'itinerario per la prossima processione del 2019 è stato già approvato dall'Assemblea dei Socii ma non è stato ufficializzato perché è al vaglio delle autorità competenti quindi alla Polizia Municipale che deve darci nulla osta e quindi solo dopo possiamo ufficializzare l'itinerario del 2019. E cosa prevede? Solo centro storico o centro storico più parte nuova della città? Come ti dicevo l'itinerario della processione dei misteri del 2019 prevederà buona parte del centro storico che non va mai trascurato perché il centro storico è l'ambiente naturale dei misteri. Però nel 2019 e sarà poi sempre così nei prossimi anni faremo anche la via Fardella ritornando di nuovo al 2010 perché la via Fardella riteniamo che sia una strada importante, una valvola di sfogo per la grandezza, la magnificenza di questa nostra processione. E poi si accontenta la cittadinanza che a gran voce l'ha rivendicato in tutti i modi.